Come sappiamo, la riapertura delle scuole dipenderà innanzitutto dalle decisioni del governo e poi dal governatore della campagna Vincenzo De Luca. Nei giorni precedenti è stata annunciata una possibile riapertura graduale dall'assessore alla scuola della regione Campania, Lucia Fortini, una volta valutata la curva dei contagi. In questi giorni, però, un gruppo di genitori di Agropoli ha lanciato una petizione in cui chiedono al primo cittadino, Adamo Coppola, il ritorno a scuola dei propri figli. È possibile firmare il modulo in diversi negozi che hanno aderito all'iniziativa e proprio questa mattina Eleonora Zaccaria, promotrice dell'iniziativa, è stata in piazza Vittorio Veneto per la raccolta delle firme. Il problema iniziale è sorto il 7 di dicembre quando eravamo convinti tutti quanti che le restrizioni di De Luca lievemente allentate avessero permesso ai bambini di Agropoli di tornare almeno alla scuola d'infanzia e fino alla seconda elementare. Quando ci siamo resi conto che ciò non è venuto per una restrizione comunale, abbiamo deciso di prendere in mano la situazione. Mi rendo conto che sono tante le persone che si oppongono e non vogliono mandare i figli a scuola. Cominciare dalla scuola d'infanzia sarebbe stata molto semplice perché fondamentalmente non c'è l'obbligatorietà, ma il mio pensiero è stato dar voce soprattutto a quelle persone che stanno attorno, nelle campagne di Agropoli, che non stanno sui social, che non parlano col sindaco, che non conoscono i punti dove andarsi a lamentare. Escono la mattina, tornano la sera, i figli sono abbandonati davanti a un computer se hanno la DAD. Perché alle scuole medie di Agropoli il 20% dei bambini non si è mai collegato. Quindi la nostra richiesta principalmente è quella di non avere ulteriori restrizioni su quelle che già la regione campagna fa. Quindi con questa petizione oggi andremo sia a richiedere questo sia un'altra cosa molto importante. Avere in presenza per tutte le scuole di Agropoli il permesso di mandare oltre ai ragazzi disabili anche quelli con problemi socio-culturali e senza connessione internet, che sono quel famoso 20% che non si è mai collegato. Noi siamo per l'apertura delle scuole in campagna come in tutta l'Italia, questo è chiaro. Oggi questa petizione parte per andare dal sindaco più forti come gruppo Agropoli. Ma ciò non toglie che trovarsi in una situazione in cui i nostri figli si ritrovano solo in campagna, non fare scuola, a me personalmente sembra assurdo. Per di più mi sembra anche assurdo, e questo lo ribadisco, l'ho ribadito oggi a tantissime persone, dover fare una petizione o scrivere delle cose sui social quando è messo in dubbio un diritto costituzionale. È assurdo che io debba scrivere e prendere delle petizioni per un diritto che è un diritto di tutti. Lo stesso De Luca però sta valutando perché più volte lui ha ribadito che si deciderà soltanto in vista dei contagi. De Luca ce lo farà sapere come sempre il giorno prima, poi inventerà problemi di screening, poi voglio sapere a chi darà il dubbio dei contagi, da cosa sarà capitato. È chiaro che la scuola problemi di contagio non ne dà. È chiaro che se c'è un problema nelle grandi città di trasporti, devono essere risolti nelle grandi città. Io vorrei sapere nei piccoli centri il problema dei trasporti. Dove sta? Sono chiuse scuole anche nel comune di Prignano dove ci sono 8-10 bambini nelle classi e vengono portati mano nella mano. Quindi non diamo alla scuola dei compiti e dei problemi che alla fine non hanno assolutamente dato. Nel resto d'Italia a scuola si sta andando, quindi la campagna si deve allineare. Tant'è vero che oggi il gruppo scuola della campagna, scuole aperte, ha cominciato una petizione e manderà delle lettere anche al presidente Mattarella, perché questa non è una repubblica. La regione campagna si deve allineare con il resto delle regioni. Se da un lato ci sono genitori pronti a far sentire la propria voce scendendo in piazza per il ritorno in classe, dall'altro ci sono mamme e papà che si mostrano resti e rientro in presenza e chiedono migliori organizzazioni e maggiore sicurezza prima di riaprire le scuole. Oggi incontrerò il sindaco e verrete poi informati sui passi avanti che spero ci saranno. Devo dire la verità che già adesso ci ha detto che sarà molto disponibile ad un'apertura, almeno a non avere ulteriori restrizioni. Per quanto invece concerne l'aspetto regionale, chiaramente partiremo con manifestazioni, vediamo quel che succede, perché fin quando De Luca non dà la notizia noi non possiamo fare altro che aspettare.